Quasi del tutto ripulito l'Arenile Sud di Giulianova dai rifiuti spiaggiati in occasione delle improvvise mareggiate di aprile e maggio dopo che un corposo intervento era stato già eseguito a marzo per portare via i materiali scaricati dal fiume Tordino e dalle correnti marine tra novembre e dicembre dello scorso anno. Sulla spiaggia restano ancora dei cumuli che in questi giorni hanno però sollevato le polemiche di alcuni cittadini. Io non so chi si lamenta, il fatto è che le mareggiate che si sono susseguite hanno portato sulla Renile di Giulianova necromasse in proporzioni enormi e come ricorderà nella imminenza delle festività pasquali già avevamo fatto un grande lavoro. Da giorni vanno avanti gli interventi di rivagliatura dei materiali spiaggiati per recuperare la sabbia, quella stessa sabbia che verrà poi successivamente utilizzata per un ripascimento morbido laddove è necessario. Il sindaco Mastromauro intanto ricorda il perché a ridosso della stagione estiva l'amministrazione comunale è stata costretta nuovamente ad investire centinaia di migliaia di euro per tirare a lucido la spiaggia. Purtroppo chi fa le polemiche forse non ricorda che dopo questa grande opera portata avanti ci sono state altre mareggiate, anche non prevedibili, che hanno portato sull'arenile nuovo materiale spiaggiato, queste necromasse che sono state di nuovo recuperate, vagliate. In questo momento ci sono ancora di mucche. Il grande mucchio che dovrà essere vagliato vicino al molo sud porterà via un po' di tempo maggiore appunto perché noi non andiamo a nasconderle quelle necromasse ma le recuperiamo perché quelle sono un valore quindi io invito tutti a collaborare più che a polemizzare e a comprendere come a Giulianova facciamo un lavoro che non fa nessun altro.